Questa mattina nel quartiere Poderino di Fano sono iniziati i lavori di modifica della segnaletica verticale e orizzontale per attivare i nuovi sensi unici di marcia progettati dal comune di Fano. Un quartiere, il Poderino, che attendeva da tempo un ridisegnamento della viabilità per migliorare l'accesso e il deflusso dal quartiere. I lavori ovviamente porteranno qualche piccolo disservizio, chiediamo alla cittadinanza di avere pazienza perché entro il 15 novembre finiranno e quindi avremo una viabilità totalmente nuova e io credo che risponda alle necessità di questo quartiere che ha strade molto piccole e quindi necessitava da molti anni di un cambio di viabilità per permettere di fare sensi unici che rendono più vivibili, soprattutto alle utenze più svantaggiate, questo quartiere. Le strade interessate che subiranno variazioni di senso di marcia sono Via Antinori, senso unico direzione Mare-Monte, Via Dini e Via Gobetti, senso unico di marcia direzione Monte-Mare, Via della Pace, tra Via Antinori e Via Fanella, senso unico di marcia direzione Pesaro-Ancona. I parcheggi sono rimasti invariati sul lato destro della carreggiata come già gli abitanti erano abituati a fare, questo per non creare ulteriori cambiamenti. Questo è un primo intervento, poi comunque anche future segnalazioni, siamo disponibili ad avere anche eventuali suggerimenti per eventuali correzioni. Ecco come sempre avviene all'inizio c'è un periodo di assestamento, poi chiaramente se c'è qualche variazione in corso d'opera nulla osto. Anzi, chiediamo alla cittadinanza se ci sono delle variazioni, delle valutazioni anche successive di segnalarcele che le valuteremo. Siamo in uno dei punti critici del quartiere Poderino, l'incrocio tra Via Libertà e Via Antinori. Via Antinori da Via della Giustizia diventerà la via di ingresso nel quartiere. Qui c'è uno stop, però per migliorare questo punto così critico e rallentare le auto in entrata nel quartiere, a 7 metri dal punto d'arresto dell'incrocio, verrà messo un dissuasore di velocità per appunto rallentare la velocità delle auto in ingresso nel quartiere. Lo scopo di questa nuova viabilità è quello di garantire maggior sicurezza agli abitanti del quartiere, ma si sa, come sempre la ricetta perfetta non esiste e quindi il Comune fa appello alla collaborazione dei cittadini per digerire il cambiamento e valutarne poi il risultato. Nei prossimi giorni una pattuglia dei vigili urbani sarà presente in zona per gestire eventuali situazioni critiche derivanti dalle consuetudini e dalle abitudini degli automobilisti. A disposizione inoltre dei residenti il numero dell'ufficio traffico del Comune per ogni chiarimento 0721 88 7524.